Corridori che sono già a terra, BNC e Trek Allora, Pantano della Trek Allora, caduta che è avvenuta nei corridori dell'attacco Sì, potrebbe essere De Marchi oppure... Il 72 è il dorsale di De Marchi, il 75 è quello di Nicolas Roche Si era vista l'immagine di un corridore, insomma, finito dentro questa scarpata, non troppo in giù Tra l'altro nella caduta, eccolo fortunatamente Era proprio Alessandro De Marchi, fortunatamente Fortunatamente nulla di grave per il rosso di Buia Eh sì, un po' ammaccato ma... Guarda la bicicletta che ha perso addirittura la sella Sì Fortunatamente, nonostante qualche acciacco, Alessandro si è rialzato Adesso il medico sta verificando le sue condizioni